Eccoci, buongiorno, siamo al Regno dei Ragni, luogo particolare e molto esclusivo della pratica dell'arrampicata sportiva. Come potete ben vedere le pareti sono molto aggettanti. Il contesto è molto bello e molto isolato, probabilmente è bello anche perché è isolato. Però la domanda del giorno è, ma chi è il sovrano del Regno dei Ragni? Quindi andiamolo a cercare, c'è un'ipotesi in atto che voi vi aspetterete che è quel ragazzo laggiù, e invece no, questo è il sovrano del Regno dei Ragni, giustamente essendo il Regno dei Ragni si suppone sia un ragno. E quindi questa è una delle proposte del giorno, che questo probabilmente è il sovrano del Regno dei Ragni. Questa dovrebbe essere la sua reggia, però come tutti i sovrani non si fanno trovare. È difficile entrare in contatto con loro. Dove sarà il sovrano? Guardate, questa ragnatela è veramente bella. Però, diciamo, abbiamo visto delle zampe del sovrano, ma non siamo riusciti a prenderci appuntamento. Diciamo, per oggi il primo indizio è questo. Arrivederci!